Come noi non molla mai, la gente come noi non molla mai, la gente come noi, la gente come noi, la gente come noi non molla mai. Torna a risuonare forte la voce dei lavoratori della Treofan di Battipaglia. Dopo il presidio di ieri a Salerno, dove hanno interessato della loro vertenza anche il ministro Toninelli, le maestranze sollecitano le istituzioni a tenere alta la guardia e a non abbandonarli al loro destino. Nel Merino ancora una volta finisce la proprietà indiana, accusata di non dare risposte chiare sul futuro dello stabilimento della Piana. Gindal, la nuova proprietà, continua a latitare. Noi non abbiamo bisogno della cassa integrazione che ancora deve arrivare. Revocare quelli che sono stati finanziamenti che a Brindisi ha avuto Gindal. Due, che in qualche modo venda a un nuovo acquirente che voglia investire in quelle che sono le nostre competenze, in tutte quelle che sono queste risorse, che non aspettano altro che riprendersi il loro lavoro fondamentalmente, che ci hanno tolto, dobbiamo riprendere quella che è la nostra dignità. A distanza di qualche settimana, che novità ci sono? È passato un po' in secondo piano, forse vi sentite anche un po' trascurati, perché nel frattempo sono emerse anche altre crisi, Whirlpool. Noi ci sentiamo trascurati, ci sentiamo trascurati da tutte quelle che sono le istituzioni. Credo che in un momento del genere non importi il colore politico. A noi serva che la situazione venga in qualche modo risolta. Non abbiamo bisogno, come dicevo prima, della cassa integrazione, ma abbiamo bisogno di ritornare a lavorare. Non abbiamo nessuna novità, a parte il tavolo ministeriale che dovrebbe ricondurci, forse probabilmente, a fine luglio, ma continua la nuova proprietà a latitare e a lasciarci nel vuoto più assoluto. Grazie. 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 Grazie.